Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è congratulazioni. Bellissima notizia, la nomina di Grazia Vittadini a nuovo Chief Technology Officer di Lufthansa, la compagnia aerea tedessa che fa parte di Star Alliance. Liceo classico al Berset di Milano, laurea in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano, Grazia ha scalato diverse aziende europee. Ricordo di averla intervistata su LinkedIn nel 2022. Grazia mi disse mia mamma mi ha insegnato a non dire mai non posso. Bellissima testimonianza, buon lavoro a Grazia a Lufthansa. La seconda parola chiave della settimana è cartellino. Addio alla timbratura. AIMCD Italia, l'azienda che si occupa di prodotti chimici e che ha sede a Milano con 156 dipendenti. Ha detto l'HR Giulia Bedini. Ci impegniamo a creare un futuro in cui ogni persona possa trovare un ambiente a misura d'uomo. Dunque benvenga la fiducia in azienda e benvenga in tutti i posti di lavoro un ambiente a misura di persona. La terza e ultima parola chiave della settimana è ferie. smaltisci le ferie ti do 350 euro. Lo prevede il nuovo contratto di Unipol. Le ferie servono per ricaricare le energie psicofisiche. Lo dice l'azienda. Dunque benvengano le ferie e benvenga l'armonia tra vita privata e lavoro. Buon lavoro a tutti!